salve a tutti amici di cripto gem e benvenuti a un'altra puntata oggi andiamo a parlare di sunday swap e adacardano andiamo a parlare anche di un trade che ho fatto ieri che non ho mandato questa volta perché volevo vedere quanti veramente seguivano la logica dei miei trade e guardavano i chart che mandavo comunque iniziamo intanto da sunday swap che abbiamo l'inizio e il lancio molto molto presto allora intanto i giorni principali da tenere sott'occhio sono il 20 gennaio in cui verrà lanciato il fully functional beta decentralized exchange quindi verrà lanciato l'exchange il 20 gennaio il 25 cominceranno i primi round di ico cioè initial stake offer in cui voi potete ricevere i token praticamente facendo alcune cose di cui adesso andiamo a parlare il primo modo di partecipare fa il delegate di ada a una delle stake qualificate e andiamo a vedere quali sono e come trovarle adesso e dicono che praticamente dal 25 gennaio sarai che potrai comunque guadagnare sunday oltre anche gli ada cardano che guadagni solitamente partecipando e delegando i tuoi stake di ada al pool poi abbiamo il gennaio 20 ci abbiamo anche il yield farming di sunday reward che iniziano quindi si può anche fare farming fornire liquidità e tutto quanto diventare lp provider cioè quindi ti provai dal del token e guadagnare sunday swap andiamo a vedere giù ok when sunday will go live functioner ben 20 gennaio how sunday allora come partecipare intanto l'ico cioè l'initial stake offer saranno available dal epoch 316 di cui andiamo a parlare anche quello adesso yield farming reward che saranno da gennaio fino a giugno e swap other token for sunday e questo pensa voglio dire che puoi fare lo swap del dex o comprare sunday direttamente comunque vedremo in dettaglio meglio allora questi sono i round del dell'ico quando inizierà qua dicono che il 5 per cento di tutto sunday supply verrà cioè diciamo che il 5 per cento del total sunday supply verrà distribuito su questi epoch che sono 5 e 1 per cento per epoch e poi vediamo tutti gli epoch che ci sono cioè quindi uno del 25 del 30 il 4 il 9 e il 14 allora io ieri ho detto in chat di preparare i propri wallet ho suggerito due wallet perché sono quelli che io conosco ce ne sono altri ma non li conosco c'è il yoroi wallet e c'è deadloss deadloss io praticamente mi piace un sacco ma è molto pesante per il computer ho provato a scaricarlo ieri mi ci metteva veramente tanto a caricare cioè scaricare i dati dalla block cena alla fine ho deciso di andare di uno un po più leggero come yori che è molto facile da usare molto semplice installare ci avete anche l'estensione qua su chrome e basta a schiacciare come vedete ve lo apre e l'interfaccia è molto molto facile io ho già aperto il mio potete anche recuperare un wallet da deadloss se avete un wallet lì su deadloss comunque io ho aperto un nuovo wallet l'ho testato mandando un po di ada per vedere che se tutto funziona ok e adesso andiamo a parlare di come fare il delegate allora ci sono c'è hanno una lista hanno dato una lista che basta andare allora basta andare qua c'è la lista iceo scoopers questa è la lista di tutti quelli che partecipano e ti danno praticamente il sunday swap token se partecipi e deleghi alla loro pool volevo farvi vedere un po come vedere queste cose intanto se facciamo esempio noi vogliamo delegare questa qui icpo facciamo copia questo è un sito che praticamente da un sacco di informazioni su ada pools quindi puoi vedere le performance delle pool puoi vedere il nome puoi vedere tutto quanto pagano le file commissioni tutto quanto a noi ci interessa specialmente due dati c'è questo la saturazione e il lifetime reward se noi andiamo a vedere una delle pool schiacciamo qua vediamo allora pool faccio ok come vedete mi dà il nome della pool ovviamente lo confronto però l'ho preso da lì e come vedete è la pool che lui ci indica che è questa qui però la saturazione un po troppo alta vedete la situazione è il 107 per cento la situazione praticamente quando è troppo alta si riducono i premi quindi state attenti a entrare una pool troppo satura perché potrebbe essere che i premi vengano ridotti per quando riguarda l'epoca come vedete voi potete vedere qual numero questo è il 315 noi stiamo aspettando comincerà dal 316 cioè da quello dopo che inizierà fra tre giorni e 11 ore quindi e vediamo un po' come si fa se noi vogliamo vedere che poi io ieri sono andato a vederne un paio ne ho visto alcune che sono più libere di altre ma essendo che io ho sempre fatto staking la maggior parte delle volte su binance anche per comodità diciamo la verità anche se non la cosa migliore sarebbe sempre farla su un wallet non detentivo e ho visto un sacco di queste pool già piene molto molto piene quindi vediamo qua un attimo ci ne sono alcune meno piene di altre però sono quasi tutte satura la maggior parte sono satura a parte se non sbaglio questa qui di frog e mi sa che una di quelle a cui io andrò a fare delle gates e ancora non è troppo satura infatti vediamo ancora non è del tutto satura probabilmente andrò a fare il mio delle gate qui sperando che funzioni perché comunque se loro lo dicono sicuramente funzionerà però non si sa mai come vedete qua 95 per cento di satura vediamo qui poi ovviamente per il prossimo ipo potete controllare quali siano meno saturi e tutto quanto però stavo dando un'occhiata queste sono anche tra le più famose perché vedo che la saturazione è molto molto alta comunque molto facile una volta che avete trovato facciamo ecco rimaniamo con il nostro frog e diciamo che vogliamo delegare a lui il token quindi facciamo frog facciamo ok e qua solitamente c'è un id vedete qui pool id basta che schiacciate qua lui ve lo copia in automatico e poi andate sul wallet yori wallet fate search by name or id or name fate in colla e poi mandate il vostro cioè fate cerca e qua vi trova esattamente la pool quindi basta che fate delle gate ovviamente dovete avere un po di ad dei ne ho mandati solo 21 così per testare infatti adesso non farò il processo di delle gate perché aspetto di mandarne altri non so se li manderò tutti perché volevo provare anche il farming quindi magari potrei fare tipo un 50 per cento in 50 per cento e vedere quale paga anche meglio allora aspettiamo un attimo ecco come vedete qua vi da tutti i dettagli stake pool name l'id quindi potete ricontrollare se è quella giusta in automatico vi da tutto quello che avete che potete già fare staking nel portfoglio e vi dice la fi di quanto è quindi qua sono due a 17 qua mettete la vostra password e poi fate delle gate quando una volta fatto delle gate andate nella dashboard e nella dashboard potete vedere i reward a chi cioè totale delegate totale reward e potete vedere tutte quale anche quella parametri penso che sunday quindi apparirà qui ancora io non lo so perché comunque non ho ancora fatto né ricevuto niente quindi sicuramente sicuramente aggiornerò più tardi una volta fatto quindi c'è upcoming reward end of epoch 318, 319, 320, 321 quindi se volete mandare per esempio una volta che avete fatto l'account che è una cosa molto semplice sinceramente possiamo anche vedere un attimo add wallet quando arrivate e installate il vostro iore wallet vedete una schermata così potete fare restore wallet e qua se avete già un wallet per esempio su deadloss o un altro che volete portare qua e qua vi chiederà quale cardano per esempio se sono 15 parole 24 per esempio deadloss e 24 parole o per paper wallet se no fate create a new one è la stessa cosa create a wallet cardano qua mettete il nome del wallet mettete spending password repeat spending password andate avanti vi darà il codice vi darà tutte le cose creerete un nuovo wallet e vedrete tutti i vostri wallet qua nella dashboard io entro nel mio wallet per esempio e posso mandare e ricevere per ricevere è molto molto facile fai external link copy file incolla e basta se no puoi generare un link come vedete e come vedete vi rigenera un nuovo address qua sotto come vedete questi tutti gli address che sono stati generati comunque ada ragazzi torniamo a parlare adesso di ada sunday sunday sicuramente è uno tra i progetti più ambiti su ada io ho sempre parlato l'anno scorso dicendovi dopo dicembre ragazzi ci sarà il lancio quindi attenzione non vedete i vostri ada accumulate ada accumulate ada perché ada solitamente non segue una logica come le altre coin in senso di volatilità in senso di cioè in senso comunque di technical analysis io quando provo a farla su ada da vedo sempre che c'è un po di diciamo non è molto coerente con quello che solitamente un coin deve fare ma tu non tutti gli asset sono buoni da fare analisi tecnica infatti non so tutti faccio analisi tecnica però aveva ragioni come la gente ha già capito non tutti seguono alcuni pattern precisi ada c'è i suoi suoi pro i suoi contro nel fare analisi tecnica però molte volte facendo la sua time frame più ampio tipo il settimanale o il daily è molto più facile che usando quelli più piccoli poi se andiamo a vedere oggi il prezzo di ada come vedete adesso sta facendo uno spike pazzesco ok e noi abbiamo visto l'altra volta questo uno dei chart che ho mandato che è semplicissimo vi fa vedere i limiti e vi fa vedere i supporti e le resistenze una delle cose che io ho sempre insegnato diciamo facendo con me trading e che io ci sono due modi solitamente con cui faccio trading ok lasciando stare i fibonacci altre cose ma i miei classici sono resistenze scusate no supporti e la rottura si di resistenze con retest allora chi si ricorda io ho impostato un buy order di ada qua che non è mai partito perché come dico ada non ha delle regole molto molto precise questo era anche prima della news si è fermato un po prima è tornato su e solitamente non mantiene molto diciamo le regole dei tocchi precisi come altre cose cioè qua per esempio vedete qua ha toccato bene quindi solitamente ti aspetti che un asset che scenda faccia una riscita del genere ok in un momento di panico di fomo vada almeno a toccare poi per risalire cosa che ada non ha fatto ed è una delle cose che ogni tanto mi infastidisce anche di ada quando faccio trading però una cosa che ieri invece ha fatto e che io è una delle mie modi preferiti di tradare è il retest di una rottura quindi noi avevamo individuato questo questa resistenza questo supporto scusate che è diventato resistenza toccandolo no perché ovviamente è andato al di sotto come vedete qua c'è stata la rottura il retest è su e questo è uno dei classici di un prezzo cioè questo è la resistenza rompe, retesta e va su specialmente specialmente se vedete che c'è un innalzamento dei volumi tipo qui anche se non alti perché comunque il problema dei volumi di ada è che il 76% di chi detiene ada fa staking ora probabilmente arriveremo all'85-90% dopo questa cosa di sunday quindi i volumi sono sempre più bassi perché gli scambi non ci sono troppi scambi sull'exchange in termini di ada quindi se andiamo a vedere per esempio dove avreste potuto fare un trade io per esempio ho mancato il mio buy order qui bene ieri cosa è successo? è andato la notizia sunday io so che da qui al 20-25 ci sarà il fomo di comprare gli ada mandarli e fare staking per ricevere e quindi in verità avreste potuto entrare ovunque infatti io ho aperto due posizioni ne ho aperto una qui e una a 41 più o meno è una qui perché ho avuto un pullback perché praticamente ne ho aperto una qui ma non era abbastanza cioè non era molto soddisfacente poi ne ho fatto un pullback e ne ho aperto un'altra qui mi sa che questa l'ho condivisa anche su instagram se andate a vedere questa qui del pullback comunque sta di fatto che sono tutte in gain in questo momento sono due posizioni in gain se fa un retest qua molto probabile che io riapra un'altra posizione per vedere se va su intanto c'è già due posizioni in gain metterò uno stop loss qua sotto e mi proteggo perché quando parte ADA quello che io so quando parte ADA parte molto 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 velocemente comunque ieri non ho condiviso questa cosa perché ero molto molto occupato e volevo vedere anche chi seguiva un po' le logiche del mio trade comunque la community ragazzi in settimana verrà lanciata insieme anche un'altra sorpresa che ho preparato con voi una cosa che vi farà molto felice e so che è da tanto da tanto che attendete anche se non è completa al 100% ma sarà una grandissima notizia per tutti quelli che mi seguono e vogliono imparare veramente il mondo delle criptovalute sarà un'ottima un'ottima sorpresa comunque detto questo è tutto quello che voglio dirvi oggi su ADA Sunday ragazzi ottimo progetto possibilità sicuramente di fare un 10x 100x se il bull run finisce scusate se il bull market continua e quindi non ignorate Sunday un'altra cosa di cui ho parlato ecco fatemi ricordare è il card swap io ieri ho detto che c'è un token che molti ignorano su questa storia di Sunday swap e che praticamente si chiama card swap la storia di card swap è molto molto strana praticamente questo token doveva essere il primo DEX cioè questo doveva essere il Sunday swap ok questo progetto non è mai partito perché a un certo punto hanno detto che ci sarebbe stata una partnership fra questi del progetto e quelli di Sunday swap e praticamente l'hanno questo praticamente fa parte del card starter non so se qualcuno lo conosce un launchpad di Ada Cardano e praticamente cosa succede io ho fatto farming di questo token che valeva veramente poco quando ho cominciato a fare farming e poi è scoppiato poi ovviamente quando fai farming te li danno gratuitamente cioè ho dato liquidità comunque e loro mi hanno dato questi token che ne ho veramente tanti in questo momento ne ho abbastanza e stanno facendo molto molto bene e però il problema è che il team di Sunday swap e di Cardstart non vuole dire quale sarà l'utility di questo e come questo verrà beneficiato da questa partnership perché io non ne sento mai parlare non ne sento parlare su Twitter non ne sento parlare sul loro Dex non ne sento parlare negli avvisi né niente potrebbe esserci uno scambio 1-1 per chi ha dato liquidità per esempio un card swap uguale a un Sunday swap quindi in questo caso avremo la possibilità di comprare Sunday swap molto prima comprando questo ovviamente non lo dicono perché comunque se la gente lo sapesse questo arriverebbe a 7-8 dollari che per me andrebbe benissimo però nessuno lo sa quindi io ieri ho detto nella chat ho accennato a questa cosa infatti come vedete quando Sunday swap e Cardano hanno avuto uno spike ha avuto uno spike anche lui del 99% addirittura guardate qua era qui più o meno a un centesimo è arrivato a due centesimi vedete due centesimi 20 centesimi scusate 20 centesimi da 10 centesimi a 20 centesimi quindi ha avuto quasi un cento per cento più di di pump adesso sta ritornando giù perché ovviamente molta gente è uscita fuori perché so che tanti non credono in questo progetto tanti dicono ah no ma questi non faranno niente questo non è non è utile non sarà utile io non lo so molto speculativo molto molto speculativo quindi attenzione però volevo soltanto farvi vedere questa cosa qui ed è tutto per oggi ragazzi e ci vediamo alla prossima puntata fatemi sapere nei commenti ovviamente il like è sempre ben accetto e i commenti anche cercherò di rispondere il più possibile se c'è qualcosa che ho mancato di dire diciamo riguardo al progetto ma probabilmente farò un video un po' prima che venga lanciato il tutto